Ciao a tutti e ciao a tutti i popoli di Youtube e questo video per farvi vedere degli acquisti che ho fatto un po' di tempo fa sul sito che si chiama Intimo Sexy Clean dove vengono vestitini, intimo e robe varie il vestitino è questo non so se... non si vede molto comunque è praticamente nero con, come vedete, queste pagliette è tutto fatto di pagliette è molto molto bello e mi sta molto bene questo qua l'ho pagato mi pare 20, da roba del genere poi c'è questo che è tutto traforato come vedete e l'ho pagato 29 questo comunque ogni giorno arrivano dei nuovi arrivi quindi appunto se volete vedere le robe che ci sono andate sul sito e poi questa qui che è una maglietta che arriva più o meno qui è abbastanza corta abbastanza trasparente come si vede secondo me è validissimo come sito perché appunto io ho acquistato e le taglie sono giuste sono tutte taglie le taglie sono tutte giuste e appunto va bene quindi niente quindi così vi lascio il link del sito sotto sotto al video e vi rendete un bacione ciao al prossimo video ciao ciao ciao